allora ragazzi in questa settimana ho ricevuto minacce di morte che quello è il meno persone che hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi mio figlio persone che hanno firmato petizioni per estromettermi da x factor come potrete immaginare queste cose mi hanno un pochino destabilizzato però io in questo momento sono un pochino perplesso se giocare con il cibo è cosa sbagliata deplorevole e meritevole di tutti questi commenti dovrebbe essere sbagliato in tutti i contesti che possiamo vivere e vedere giusto per questa benedetta festa supermercato si è scatenato un caso di stato eppure io in televisione ho visto vasche con cibo lanciato su persone e gente che spacca angure coi pugni e standing ovation e grandi risate per l'altro quello di lanciare il cibo nelle vasche alle persone mi dicono sia una ricorrenza che esiste da anni io non ero il corrente francamente ovviamente non è mia volontà voler criticare queste trasmissioni proprio non me ne frega niente il cibo potrà essere scaduto tutto quello che volete però il messaggio che si passa comunque il medesimo cioè si può scherzare con il cibo si può fare spettacolo giocando con il cibo giusto però francamente mi interrogo sul perché esistano questi due pesi e due misure nei nostri confronti si è arrivato a dei livelli veramente indicibili e non capisco a questo punto non capisco perché io continuo a rinnovare le mie scuse so che stavamo lanciando un messaggio sbagliato tanto che ho interrotto la festa nel pieno del suo svolgimento però non ho capito tutto questo accanimento ragazzi non l'ho capito